Il Piano Comunale di Protezione Civile di Padova è stato approvato con la delibera del Consiglio 41 dell'8 ottobre 2012, 81 pagine in cui la città viene integralmente scomposta in strade, fiumi, canali, ponti, aree urbane e nuclei familiari, per essere poi ricostruita in aree di rischio e di intervento. Il suo scopo è garantire la gestione dell'emergenza nell'organizzazione delle procedure, nella distribuzione dei compiti e nell'assistenza alla popolazione. Questo si legge nelle prime righe del piano che potete trovare integralmente pubblicato sul sito del Comune, consultabile a tutti. Per predisporlo sono stati prima di tutto individuati gli eventi calamitosi cui il nostro territorio, per le sue caratteristiche naturali, è più predisposto. In primo piano, infatti, per il Padovano l'emergenza e l'allagamento. Il territorio, si legge, si trova inserito tra i due alvei dei fiume Brenta e Bacchiglione. Questo rappresenta una evidente pericolosità. Qualora uno o entrambi i fiumi presentino stati di piena, conseguenti a prolungate precipitazioni, che possono anche coincidere con lo scioglimento della neve. Area a moderata pericolosità è stata definita tutta la parte est del territorio comunale, compresa tra Via delle Grazie, il canale San Gregorio, fino al fiume Bacchiglione e via Vigonovese. Pericolosi, poi, sono stati definiti tutti i ponti di Padova, considerato, si legge, il tessuto medievale del reticolo urbano del centro storico e l'intreccio di fiumi, canali e canalette sovente tombinate. Ecco le tre aree che sono state definite di allarme. Tutti i ponti lungo le mura del 200, lungo l'alveo del Bacchiglione, fino al ponte di Via Eugania, nel comune di Selvazzano, e il ponte San Nicolò, nel comune che porta il suo nome. Nel piano sono state definite anche le vie di comunicazione cui fare riferimento per la gestione dell'emergenza. La rete stradale è stata mappata in due assi autostradali, A4 e A13. Otto, invece, sono le arterie statali. Da nord, ruotando in senso orario, si incontrano. Come opere infrastrutturali rilevanti sono state annoverate sette strade. La Noventana, la strada dell'Olmo, la strada dei Vivai, la Conselvana, la Romana, la strada della Torre Rossa e la strada Prati Arcati.